E, pensate, la sua campagna elettorale, i suoi manifesti dicevano votatemi e non sarò soltanto un'altra bella faccia, ironizzando sul suo volto totalmente sfigurato. Circa tre anni fa ero a un corso insieme a Tony, a dare assistenza, come spesso faccio durante l'anno, dandogli una mano negli Stati Uniti, e sul fondo della sala ho visto quest'uomo, su questa sedia a rotelle, che dal fondo della sala stava seguendo, sorridendo, Tony che spiegava. E l'ho guardato, so che mi ricordo che il mio sguardo ha incrociato questo volto totalmente sfigurato, mi è caduto l'occhio su queste mani, praticamente senza dita. E vicino a queste mani c'era la sua borsa e c'era la targhetta col nome, ho letto distintamente W. Mitchell, mi sono avvicinato a quest'uomo, ho fatto due chiacchiere, e gli ho raccontato il fatto che la sua storia mi aveva così colpito, mi aveva talmente ispirato il fatto di sapere che persone con così grandi difficoltà comunque erano riuscite a tirare avanti, e avevano una vita comunque bella, felice, serena comunque. E abbiamo fatto alcune cose, abbiamo chiacchierato per una decina di minuti. E il sorriso di quest'uomo comunque, da questo volto ha assigurato questi occhi così dolci, la serenità che trasmetteva mi ha colpito in maniera incredibile. E mi ricordo che alla fine ho detto, signor Amici mi tolga una curiosità, ma questo W cosa significa? Qual è il nome che si cela a questo W? William Walter? E lui mi ha guardato sorridendo e mi ha detto, wonderful, che in inglese significa meraviglioso. Ecco, abbiamo persone invece che riescono a superare così grandi difficoltà e riuscire a vivere comunque una vita felice, concentrandosi su tutto quello che hanno invece che su tutto quello che hanno perso, su quello che possono avere invece che su quello che potevano avere ma non hanno avuto. E noi abbiamo il potere di decidere su cosa focalizzarci e grazie a questo abbiamo la possibilità di cambiare stato d'animo in ogni momento. Tu hai questo controllo, devi essere consapevole, imparare a esercitarlo. Come? Attraverso un unico strumento, ossia le domande che ti fai. Le domande che noi ci facciamo determinano ciò su cui ci focalizziamo. Quindi le domande sono il modo più semplice che possiamo utilizzare per spostare il nostro focus. Il nostro è quello di qualcun altro. Pensa, nella comunicazione in genere, chi è che guida la comunicazione? Chi fa domande o chi risponde alle domande? Chiaramente chi fa le domande determina dove va a finire la comunicazione. Se io ti chiedessi a Bruciabella in questo momento che cosa hai mangiato ieri sera? Qualcuno mi sta dicendo niente, ho saltato cena, porca miseria, è una settimana che non mangio. Però a parte un caso del genere, comunque in ogni caso ho spostato la tua attenzione. Per un istante la tua mente si è spostata da questa cassetta e hai iniziato a pensare a qualcos'altro, a quello che hai mangiato ieri sera. Assolutamente normale, le domande spostano il focus. Quindi attraverso le domande possiamo spostare il focus altrui, ma anche il nostro. Nel nostro dialogo interno, quando noi pensiamo, in realtà il pensare non è altro che un farsi e rispondere a queste domande. Ogni volta che noi valutiamo qualcosa, ogni volta che valutiamo un qualsiasi evento, una qualsiasi situazione, nel nostro cervello ci poniamo delle domande e ci rispondiamo. Dialoghiamo con noi stessi, comunichiamo con noi stessi. Probabilmente in questo momento stai valutando se quello che sto dicendo è vero oppure no. E probabilmente per valutarlo ti sarai fatto delle domande, ti sarai chiesto probabilmente è vera questa cosa. Ogni volta è così, fammici un po' pensare. E in effetti ti accorgerai che per valutare se questa cosa è vera oppure no, ti stai facendo domande, ti stai ponendo domande e dandoti delle risposte. Quindi le domande controllano e dirigono il nostro focus. Allora immaginiamo di trovarci in una situazione difficile, che non ci aspettavamo. Ci capita qualcosa all'improvviso che proprio non ci aspettavamo. E la nostra reazione è una domanda di questo tipo. Perché? Perché proprio a me? Cosa pensi che farà questo tipo di domanda? Ci aiuterà a risolvere quella situazione? O ci farà focalizzare sul problema in maniera incredibile? Chiaramente ci farà focalizzare sul problema. Devi tenere presente una cosa. Il nostro cervello è un po' come un computer che ha tutte le risposte. Ossia, qualsiasi domanda tu gli faccia a questo computer, qualsiasi domanda tu ti fai, se chiedi con aspettativa di ricevere una risposta, una risposta ti arriverà comunque. Nella Bibbia c'è scritto chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete. Funziona esattamente così. Se noi chiediamo con insistenza qualcosa, ci arriva una risposta. Per cui se io mi faccio una domanda del tipo, cosa c'è di sbagliato nella mia vita? Può anche non esserci niente, ma il mio cervello troverà comunque delle risposte. Perché se inizio a chiedermi cosa c'è di sbagliato nella mia vita, cosa c'è di sbagliato nella mia vita, inizio ad andarlo a cercare, troverò sicuramente qualcosa. Se mi chiedo, perché succede sempre a me? Probabilmente il mio cervello troverà delle risposte. La risposta che troverà probabilmente sarà, perché sei uno sfigato, perché te lo meriti. Ossia se ci facciamo delle domande stupide, ovviamente ci daremo delle risposte stupide, troveremo risposte stupide. Ma comunque il nostro cervello troverà delle risposte. Perché è programmato per questo, è programmato per dare risposta alle nostre domande. Perché non riesco mai ad imparare nulla? Pensate a una domanda del genere. Pensate a quante volte le persone, forse tu sei uno di questi, ma ci sono tantissime persone che si fanno domande di questo tipo. Perché non riesco mai a imparare nulla? Perché non riesco mai a fare questo? Notate come in questo tipo di domande ci siano dei presupposti. E cos'è un presupposto? Il presupposto è un assunto all'interno di questa domanda del fatto che questa cosa è vera. Ad esempio, perché non riesco mai ad imparare nulla? Qual è il presupposto all'interno di questa domanda che non imparo mai nulla? Cosa che non è vera, perché ognuno di noi ha imparato un sacco di cose, impara comunque un sacco di cose. Però se inizio a chiedermi perché non riesco mai a imparare nulla, e inizio a dare risposta a questa domanda, prendo assolutamente per vero questo presupposto. Il fatto che io non imparo mai nulla. Ti fai mai domande che presuppongono che non sei abbastanza intelligente, non sei abbastanza abile, non sei abbastanza dotato? Nel momento in cui fai questo tipo di domande, il tuo cervello trova delle risposte. E anche se questo non è vero, e anche se non è vero che non sei abbastanza intelligente, abbastanza abile, abbastanza dotato, il tuo cervello inizierà a prenderlo per vero e troverà dei motivi per i quali questo è vero. Se ti chiedi invece, come mai la mia vita è così bella? Anche a questo di dare delle risposte al tuo cervello. Te lo dirà. Perché hai applicato ciò che sai? Perché te lo meriti? Perché è così che deve essere la vita di un uomo? Ricorda, cerca e troverai. Chiediti e sarà dato. Se noi chiediamo a noi stessi, le risposte vengono fuori. Sempre e comunque. Se io sono la donna più bella, sono Claudia Schifar, la donna più bella del mondo, mi guardo davanti allo specchio e mi dico cosa c'è che non va in me? Cosa c'è di brutto esteticamente? Troverò qualcosa, sicuro. Troverò qualcosa. Anche se c'è ben poco da trovare. Anche se la visione per chiunque guarda all'esterno è un qualcosa assolutamente bellissimo e splendido. E se sono la persona più brutta del mondo e mi guardo al specchio e dico ok, cosa c'è di bello in me? Cosa c'è di bello esteticamente? Troverò qualcosa. Quindi cerca e troverai. Chiedi e ti sarà dato. Se noi chiediamo al nostro cervello, il nostro cervello ci dà risposte. Quindi se tu vuoi dimagrire e ti chiedi perché sono così grasso? Ti guardi allo specchio e dici perché sono così grasso? Questa domanda ti garantisce di rimanere grasso o non ti farà cambiare tanto così? Perché ha una domanda del genere quali possono essere le risposte? Perché mangi continuamente? Perché non hai controllo su di te? Dopo che sei dato queste risposte ti senti una schifezza totale. e non hai ulteriormente diminuito la tua autostima. Quelle possono essere domande produttive, domande che ti aiutino a risolvere questo problema, che ti aiutino a muoverti in una certa direzione. Domande tipo come posso dimagrire? Oppure cosa posso fare oggi per iniziare ad essere più magro? Oppure cosa devo fare per mantenere nel tempo i risultati che voglio? Come posso essere più in forma? Oppure come posso diventare più magro e divertirmi nel farlo? Fa sì che sia piacevole. Notate come tutte queste domande cambiano completamente il focus, vanno a cercare delle soluzioni. La qualità della nostra vita è uguale e in diretta proporzione alla qualità delle domande che ci facciamo. Domande di qualità producono una vita di qualità. Notate come le domande perché, quindi perché sono così grasso, perché proprio a me, perché non riesco mai a imparare nulla, tendono ad essere delle domande loop, delle domande che ritornano su se stesse, alle quali non diamo risposte costruttive. Molto meglio delle domande perché sono le domande come. Come posso imparare meglio? Come posso imparare più velocemente? Come posso fare per utilizzare meglio le mie risorse? Cos'altro fatto in passato che mi dimostra che sono in grado di farlo anche adesso? Come posso ottenere questo risultato più velocemente, più facilmente? Come posso utilizzare tutto il mio potenziale? Notate come domande di questo tipo ci spingano a lavorare sulle soluzioni, a muoverci in una certa direzione. I presupposti sono che posso farlo. Ci ricordiamo di tutte le volte che abbiamo fatto già un qualcosa. I presupposti sono che abbiamo del potenziale, che abbiamo le possibilità, che possiamo farlo come in realtà è. Per cui prendere controllo del nostro focus mentale, prendere controllo delle nostre domande, delle domande che ci facciamo e quindi del dialogo nostro interno, è assolutamente di fondamentale importanza. Imparare a fare questo vuol dire prendere controllo delle proprie reazioni, prendere controllo dei propri stati d'animo e quindi prendere controllo dei risultati della nostra vita quotidiana anche nelle piccole cose. Ho un esempio proprio fresco fresco di giornata, proprio prima di venire qua in studio a registrare one to one, proprio oggi pomeriggio, poche ore fa, ho avuto una discussione, diciamo così, abbastanza accesa in ufficio con una mia collaboratrice. Sapete quelle classiche discussioni dove uno dice bianco, l'altro dice nero? Insomma, non è un grosso problema, questo capita ogni giorno, quando le persone lavorano in maniera impegnata, con cuore, con passione, con tanto impegno, con tanto amore in quello che fanno.